Una nuova sfida per la rivelazione di droe Giunghi ogni giorno, gli stupi di domenica! ... ha riempito l'arena oggi! Anche il generale Korosev ha sentito parlare di questo mini distruttore. Chissà, potrebbe venire di persona a vedere il nuovo astro nascente! Prepariamoci a spaccare tutto! ... Grazie a tutti. 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 a tutti.